La mia candidatura è il frutto di una decisione collettiva di decine di compagni e compagni ormai attive sull'Ateneo Salernitano da sei anni e grazie a loro ho accettato la sfida di questa campagna elettorale che comunque tiene all'interno dei temi fondamentali per l'università in generale come il diritto allo studio, la tassazione, il welfare studentesco e i diritti e i servizi che in generale riguardano il nostro percorso accademico. All'interno del nostro programma elettorale, al centro del nostro programma elettorale, c'è la legge di iniziativa popolare per il diritto allo studio che abbiamo lanciato a livello nazionale e che prova a sancire quei diritti minimi per il diritto allo studio che possono essere un avanzamento serio e reale per quello che è il welfare studentesco e la condizione dello studente universitario italiano. Quindi io vi chiedo il 18 e il 19 maggio di barrare il simbolo link liste indipendenti per permetterci di proseguire questo progetto politico che da Salerno possa portare le istanze degli studenti che provengono dal basso fino agli organi più alti della rappresentanza in consiglio nazionale degli studenti universitari. Quindi il 18 e il 19 maggio barrate il simbolo link e scrivete Francesco Curcio basso.